Congratulazioni ad Andrea De Logu, che si è guadagnata un nuovo importante ingaggio da parte di Mamma Rai. Nelle scorse ore, in occasione di un incontro tenutosi per la Milano Music Week 2022, Amadeus ha confermato che l'affascinante presentatrice dalla Chioma Rossa sarà la conduttrice del prima festival. Lo spazio dedicato al Festival di Sanremo inonda subito prima dell'inizio della Kermesse vera e propria. I telespettatori vedranno dunque il volto della De Logu nel preserale di Rai 1 a partire dal prossimo 7 febbraio fino all'11. Sarà lei l'unica presentatrice dello show, a fianco, ad Amadeus che l'ha scelta per questo prestigioso ruolo. Insieme a lei, ma in veste di inviati, ci saranno personaggi molto amati soprattutto dal pubblico di giovanissimi. Da un lato c'è Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto oggi lanciatissimo speaker radiofonico. Dall'altro c'è il team di youtuber e content creator diventati celebri grazie ai video virali sul mondo del calcio. Con la conduzione del prima festival, dunque, Andrea De Logu torna in Rai nella veste di conduttrice di un format musicale. Nel corso di quest'estate, infatti, De Logu ha condotto insieme a Stefano De Martino Team Sammeriz. Lo spettacolo itinerante CB e durante la bella stagione appena trascorsa ha portato gli artisti più in voga del momento a presentare dal vivo i loro torna. Andrea De Logu, tra l'altro, dovrà così prendere il testimone di Roberta Capua, la presentatrice della scorsa edizione di Prima Festival insieme al comico Ciro Priello dei Tegecal e a Paola Di Benedetto. I fan della Kermes Ligure attendevano questo incontro alla Milano Music Week con Amadeus come si attende la pioggia nel deserto. Visto il periodo, c'era da aspettarsi che il presentatore avrebbe fatto uno dei suoi annunci sul festival. E in effetti così è accaduto. Amadeus ha infatti confermato che la lista dei big in gara alla prossima edizione del concorso musicale sarà svelata in diretta al TG1 domenica 4 dicembre alle mezzogiorno e mezzo.